Oggi siamo qua su Minecraft Allora, che cosa volevo fare in questo episodio? Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto appunto queste scale per facilitarci un po' tutte le cose Poi comunque in futuro, praticamente, magari off camera, toglierò tutto questo villaggio Magari tranne raccolti e ce lo faremo tutto per noi in modo che, diciamo, saremo da subito In più, volevo in questo episodio andare in miniera Ovviamente non voglio fare l'entrata perché io credo che per il momento, insomma, non serva Insomma, non lo faremo dopo, più tardi, magari Intanto qui, ho fatto tutto, questa la avevo scoperta da sola E mi ricordo che qui, appunto, c'era una caverna Quindi, ok, mi sono scoperta di fare le torce Oh, ce l'ho già qui? No, bene, bene, ho detto bene Ok, ci facciamo un attimo di... Un po' di bastoni Che dove questi bastino Ok, sempre voglio tenere magari dei... Questo no, sbagliato Tanto poi qui lo troveremo, quindi... Perfetto 52 torce Io soltanto ho il gamma al massimo Ma comunque è per farvi vedere Quindi non avevo trovato assolutamente nulla Quindi un attimo di pazienza Ok Ragazzi, ci facciamo una scaletta un attimo Per tornare in superficie Se vediamo qualche mob brutto Ecco, appunto Un gripper, di giama Ma vattene via, va Merda Merda Ok Chi vi ho trovato del carbone? Allora, prima di tutto Magari mettiamo una torcia Che se non voi non vedete niente Ci troviamo magari del ferro Perché Oh, ecco Parla del diavolo Bene, bene Molto bene Iniziamo in un certo senso male In un certo senso bene Perché Abbiamo già incontrato un gripper Ecco Eh Però abbiamo già Pre Abbiamo già Chiuso del ferro E Del carbone Ok Ma che Un altro Oh, salve Di qui Bene Allora, volevo un attimo esplorare questa Magari Poi Ok, no Qui ha chiuso Può arrivare Ok Non pensavo Venissi da me subito Sinceramente Cos'è? Ah, che paura Madonna Ok, allora A questo punto Oh, non l'avevo visto Ok Eh, fanno saltare Ok Ma come vi hai fatto a vederlo? Scusate Ok Ok, no Voglio un attimo Cambiare posizione Con questo Anche se È finito Bene Andiamo un attimo Di qui Aglio Perda Che pizza Non provare a uccidermi Ho detto non provarci E intanto ci ha portato al ferro Bene bene Mai scavarsi Sotto i piedi Ok Quando finiscono di scavare Ragazzi Vi ho un consiglio Andate un po' Cioè Scavate anche un po' intorno Che magari Non vi accorgete I diamanti Sono vicini a voi Per esempio Ora A noi Non saranno mai vicini Perché Comunque Non siamo Abbastanza In profondità Cioè Si vede Comunque Non siamo in profondità Sennò avremmo già trovato Nella lava Ma Vediamo Che comunque Non siamo Abbastanza in profondità Quindi Ok Spostiamo Questo qui Ne ho fatti tanti Merda Ragazzi Comunque Sono scimmare Cioè Dico Solo questo Poi fate Come volete A parte Che siamo Livello 8 Quindi Procediamo Abbastanza bene Devo dire Non voglio Portarvi Tanti episodi Magari Sotto le miniere Eccetera Che Magari Potrebbe Annoiarvi Magari Scrivetevelo sotto Nei commenti Se vi annoia Oppure Se volete Più episodi Sotto le miniere Oppure Che magari Facciamo Qualche costruzione Facciamo Qualche altra Attività Che si fa Al visore Del Minecraft Insomma Ditemelo sotto Nei commenti Alla fine Poi Vediamo Ci mettiamo D'accordo Oppure Se comunque Vi piacciono Gli episodi In miniera Possiamo fare Cioè Possiamo Piannare Magari Un episodio In miniera Un altro Episodio Magari Che facciamo Qualche attività In superficie E cose del genere Insomma Fatemelo sapere Va Almeno Ci mettiamo Un attimo In un accordo Ok Mamma mia Quanto carbone Stiamo trovando Ragazzi Eh Mamma mia C'è una riserva Infinita Cioè Ne abbiamo 44 Per il momento Ho Anche un po' Di antracite Ma Tutta la stessa Cosa Ma alla fine Ok Perfetto No Questa parte Oh no Questa parte È finita Quindi magari Possiamo Continuare Qua Ok Ah no Perché sono tornata Indietro Raga Cioè Sono riandata Dove sono Ok Ecco appunto Io ragazzi Sapete che cosa farei? Metterei un segno del genere In modo che mi ricordo Che da lì Si può passare Non ho già Si può andare Ora Non mi ricordo Non mi ricordo Quella parte Ma io sono Scema Sono proprio Scema Ok Non mi so No Ok Non mi raccomando Ok Possiamo Continuare di qua Anche se ho Praticamente Tre cuori Tre cavolo Di cuori Ok Non ho già Almeno Mi si ripristina Stiamo attenti Direi un attimo Di andare qui Ah c'è anche Il sole Salve Merda No 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 Cavolo 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 E che a me Eppure ragazzi Vi dico che A me non piace Non piacciono Tanto i mob E cose varie Quindi Ho messo Modale Facile Però per me È un inferno Per me È comunque Un inferno Perché abbiamo Trovato Altro ferro Bene Prendiamo Questo ferro E poi magari Torniamo in superficie Va Ok Guardate ragazzi Io non voglio andare Mai nelle miniere Mai Infatti Quando giocavo Con i miei amici Dicevo Andate voi Però poi Andavo Perché comunque Un po' Con loro Mi sentivo Al sicuro Ce n'è altro Che è finito Perché Allora Oh no Altro ce n'è Bene bene Più ne troviamo Comunque Meglio è Ce n'è altro Sì Ecco qua Perfetto Perfetto Non credo Che ce ne sia Altro qui Quindi possiamo Possiamo tornare Facciamo così E torniamo a casa Noi ci possiamo fare Magari L'armatura No Di qua no L'armatura Insomma Qualsiasi po' Ma sono scema C'era Che io non ci credo O che non ci voglio Credere Dai Fammi saltare Ti credi? Oh No vabbè A parte che sono Scema No Perché io lo so Che quella che Sapevo Che quella che Poteva cadere Invece 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 Ma io Scusate Ma io scusate No no Dico un attimo Scusate Perché Io di solito Metto Non come giocare Impostazioni Messaggi di morte Messaggi di morte Merda Merda Flare Raga Io non volevo portare Minecraft Io non voglio portare Minecraft Perché io non ci so Giocare a Minecraft Tanto cielo E grazie Ma te neanche Ragazzi Sì ma fa mi piacere di andare A che fare Quando muore Quando muore Oh Mi è venuto neanche la carne Perché larga Raga Larga Tantissimo Oh ma chi è Ma che no Raga Ma raga Ma questa è modalità facile Sì o no Cioè perché secondo me Non lo è Cioè è modalità facile Raga Ma cosa sto facendo Quindi già Muori No Non ti avvicinare Ma 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 perché Ma dai Cioè io più di così Più di cliccare in combinazione Non posso Raga Cioè se poi Sto cavolo Di Vai lasciamo stare Anche tu Basta Cioè che io mi stavo aspettando Ma finisci Raga ma perché Muori Devi morire Sì Devi morire Oh Nonna Raga comunque Secondo me Le cose sono scomparse Secoli Secoli Che fare Ancora no Ancora no Ora Metto con la spada Che nessuno che mi disturbi Eh Nessuno che mi disturbi Raga Raga Sentite Peggio di così Non posso sentire Ma almeno le mie cose Le ho prese Raga Raga Rattura Bene Ora andiamo a dormire E magari Concludiamo l'episodio E pensavo che questo fosse un episodio tranquillo Senza problemi Miniera No invece Sì Aia No 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 C'è raga No Raga No No Devo un attimo mangiare Per riprendere Cioè per riprendere i cuori Che se no Qua non ci salviamo Basta Santo cielo Chiudi la porta Sì Ciao Ciao Cioè salve Ok raga Comunque qui La cosa Va assolutamente Torta Mi rimetto Questi E questi Che abbiamo per il momento Prima di concludere l'episodio Andiamo La roba Non so perché Mi racca tantissimo Mi sta dando un fastidio Che non potete capire Comunque Qui ecco appunto Facciamo un po' di ferro Ok Non possiamo dormire Ecco appunto Perché sono dei vostri imparaggi Però comunque Con una freccia Piantata Sulla testa Direi che possiamo Ferremarci qua Con questo Episodio Lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti E iscrivetevi al canale